Capitolo primo di Le storie del castello di Trezza Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Letto da Francesca Roma Le storie del castello di Trezza Di Giovanni Verga Capitolo primo La signora Matilde era seduta sul parapetto smantellato, con le spalle appoggiate all'edera della torre, spingendo lo sguardo pensoso nell'abisso nero e impenetrabile. Suo marito, col sigaro in bocca, le mani nelle tasche, lo sguardo vagabondo dietro le azzurrine spirali del fumo, ascoltava con aria annoiata. Luciano, in piedi accanto alla signora, sembrava cercasse leggere quali pensieri si riflettessero in quegli occhi impenetrabili, come l'abisso che contemplavano. Gli altri della brigata erano sparsi qua e là per la spianata ingombra di sassi e di rovi, ciarlando, ridendo, motteggiando. Il mare andavasi facendo di un azzurro livido, increspato lievemente e seminato di fiocchi di spuma. Il sole tramontava dietro un mucchio di nuvole fantastiche, e l'ombra del castello si allungava melanconica e gigantesca sugli scogli. — Era qui? — domandò ad un tratto la signora Matilde, levando bruscamente il capo. — Proprio qui. Ella avvolse attorno uno sguardo lungo e pensieroso, poscia domandò con uno scoppio di risa vive e motteggiatrici. E come lo sa, ricostruisca con l'immaginazione, le volte di queste arcate alte e oscure, in cui luccicano gli avanzi delle dorature, quel camino immenso, affumicato, sormontato da quello stemma geloso, che non si macchiava senza pagare col sangue, quella alcova profonda come un antro, tappezzata a foschi colori, con la spada appesa al capezzale di quel signore che non l'ha ritirata mai in vano, dal fodero, il quale dorme su chi vive, col orecchio teso come un brigante, che ha il suo onore al di sopra del suo dio, e la sua donna al di sotto del suo cavallo di battaglia. Cotesta donna debole, timida sola, tremante, al fiero cipiglio del suo signore e padrone, ripudiata dalla sua famiglia il giorno che le fu affidato l'onore ombroso e implacabile di un altro nome. Dietro quell'alcova, separato soltanto da una sottile parete sotto un'asse traditrice, quel trabocchetto, che oggi mostra senza ipocrisia la sua gola spalancata, il carnaio di quel mastino bruno, membruto, baffuto, che russa fra la sua donna e la sua spada, Il lume della lampada notturna che guizza sulle immense pareti e vi disegna fantasmi e paure. Il vento che urla come uno spirito maligno nella gola del camino, e scuote rabbiosamente le imposte tarlate, e di tanto in tanto, dietro quella parete, dalla profondità di quel trabocchetto, attorno a cui il mare mugisce, un gemito soffocato dall'abisso, delirante di spasimo, un gemito che fa drizzare la donna sul guanciale, coi capelli irti di terrore, molli del sudore di un'angoscia più terribile di quella dell'uomo che agonizza nel fondo del trabocchetto, e fuori di sé le fa avvolgere uno sguardo smarrito, quasi pazzo, su quel marito che non ode e russa. La signora Matilde ascoltava in silenzio, con gli occhi fissi, intenti, luccicanti, non disse «è vero», ma chinò il capo. Il marito si strinse nelle spalle e si alzò per andarsene. Le ombre sorgevano da tutte le profondità delle rovine e del precipizio. — Se tutto ciò è vero, ella disse con voce breve, se è accaduto così, come ella dice, essi devono essersi appoggiati qui, a questi avanzi di davanzale, a guardare il mare, come noi, adesso. Ed ella vi passò la mano febbrile. — Qui. Ehi, chinò lo sguardo sulla mano, poi guardò il mare, poi la mano di nuovo. Ella non si muoveva, non diceva molto, guardava lontano. — Andiamo, disse a un tratto. La leggenda è interessante, ma mio marito a quest'ora deve preferire la campana del desinare. Andiamo. Il giovane le offrì il braccio, ed ella vi si appoggiò, rialzando i lembi del vestito, saltando leggermente fra i sassi e le rovine. Passando presso uno stipite sbocconcellato, osservò che c'erano ancora attaccati gli avanzi degli stucchi. Se potessero raccontare anche questi, disse ridendo, direbbero che allo stesso posto dove si è posata la sua mano, ci si è aggrappata la mano convulsa della baronessa, la quale tendeva l'orecchia ansiosa verso quell'andito dove non si udiva più il rumore dei passi di lui, né una voce, né un gemito, ma risuonavano invece gli sproni sanguinosi del barone. La signora si tirò indietro vivamente, come se avesse toccato del fuoco. Poi vi posò di nuovo la mano, risoluta, nervosa, increspata. Sembrava avida d'emozione. Avea sulle labbra uno strano sorriso, le guanci accese e gli occhi brillanti. — Vede, disse, non si odi più nulla. — Alla buon'ora, esclamò il signor Giordano, dunque possiamo andare. La moglie gli rivolse uno sguardo distratto e soggiunse. — Scusami, sai? Il raggio di sole, prima di tramontare, si insinuò per un crepaccio a fior d'acqua. Illuminò improvvisamente il fondo di quella specie di pozzo che era stato il trabocchetto, le ponte a guzze delle neri pareti, i ciottoli bianchi che spiccavano sul muschio, e l'umidità del fondo, e i licheni rachitici che l'autunno imporporava. Il sorriso era sparito dal viso della signora spensierata, e volgendosi al marito, timida, carezzevole e imbarazzata. — Vieni, gli disse. — Bada, rispose il signor Giordano, col suo ironico sorriso. Ci vedrai le ossa di quel bel cavaliere, e farai brutti sogni stanotte. Ella non rispose, non si mosse, stava chinata sulla buca, appoggiandosi ai sassi che la circondavano, infine con voce sorda. — Infatti, c'è qualcosa di bianco, laggiù, in fondo. Senza attendere risposta, se quest'uomo è caduto qui, ha dovuto afferrarsi per istinto a quella punta di scoglio, vedete, si direbbe che c'è ancora del sangue. Suo marito vi buttò il sigaro spento e volse le spalle. Ella rabbrividì come se avesse visto profanare una tomba. Si fece rossa, e si rizzò per andarsene. Era una graziosa bruna, palliduccia, delicata, nervosa, con grandi e belli occhi neri e profondi. Il piede le sdrucciolò un istante sul sasso malfermo. Vacillò e dovette afferrarsi alla mano di Luciano. — Grazie, gli disse con un sorriso intraducibile. Si direbbe che l'abisso mi chiama. Fine del capitolo primo Capitolo secondo di Le storie del castello di Trezza di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Francesca Roma Capitolo secondo Il pranzo era stato eccellente. Non per nulla il signor Giordano preferiva la campana del desinare alle leggende del castello. Verso le undici alla villa si pestava sul piano, si saltava nel salotto e si giocava a carte nelle altre stanze. La signora Matilde era andata a prendere una boccata d'aria in giardino, e si era dimenticata di una polca che aveva promessa al signor Luciano, il quale la cercava da mezz'ora. Al fine, disse scorgendola, e la nostra polca? Ci tiene proprio? Ci tiene proprio? Molto. Ci trete dunque alle storie? Ma secondo il quarto d'ora? Il silenzio era profondo, il vento cacciava le nuvole rapidamente, e di tanto in tanto faceva stormire gli alberi del giardino. Il cielo era inargentato a strappi, le ombre sembravano inseguirsi sulla terra illuminata dalla luna, e il mormorio del mare e quel sussurrio delle foglie sommesso ad intervalli a quell'ora aveano un non so che di misterioso. La signora Matilde volse gli occhi di qua e là, in aria distratta, e li posò sulla mole nera e gigantesca del castello, che disegnavasi con profili fantastici su quel fondo cangiante ad ogni momento. La luce e le ombre si alternavano rapidamente sulle rovine, e un arbusto che aveva messo radici sul più alto rivellino agitavasi di tanto in tanto come un grottesco fantasma che si inchinasse verso l'abisso. — Vede, disse ella, con quel sorriso incerto e con la voce malferma, c'è qualche cosa che vive e si agita lassù. — Gli spettri della leggenda? — Chissà. — Gotesto è il quarto d'ora delle storie. — Oppure... — Oppure cosa? — Chissà. — Cosa fa mio marito? — Gioca a tre sette. — E la signora Olani? — Sta a guardare. — Ah! Mi racconti la sua storia? Riprese di lì a poco, con singolare vivacità. Se non le rincresce per la sua polca. La storia che Luciano raccontò era strana davvero. La seconda moglie del barone Darvelo era una monforte, nobile come il re e povera come Giobbe, forte come un uomo d'arme, e tagliata in modo da rispondere per le rime alla galenteria un po' manesca di Don Garzia, e da promettergli una nidiata di Darvelo, numerosi come le uova che avrebbe potuto covare la chioccia più massaia di trezza. Prima delle nozze le avevano detto degli spiriti che si sentivano nel castello, e che la notte era un gran tramestio per i corridoi e per le sale, e si trovavano usci aperti e finestre spalancate, senza sapere come né da chi. Non avrebbe avuto paura di tutte le streghe di Spagna e di Sicilia, né di tutti i diavoli dell'inferno, ed era donna da tener parola. La prima volta che si svegliò nel letto dove aveva dormito l'ultima notte la povera donna Violante, mentre Grazia, la cameriera della prima moglie del barone, le recava il cioccolatte e apriva le finestre, ancora mezzo addormentata domandò svogliatamente. E così, come va che gli spiriti non hanno ballato il trescone di benvenuto alla nuova castellana? Non si è sentito stanotte, rispose la povera Grazia, che anche a parlare ne aveva una gran paura. Sì, ho udito il russare di don Garzia, e ti so dire che russa come dieci guardie vallone, vuol dire che il cappellano ha benedetto la camera meglio delle altre volte. Ah, sarà così, oppure che faccio paura al diavolo e agli spiriti, o che sarà per domani. Eh, hanno dunque il loro cerimoniale, messeri gli spiriti, come nostro signore il re? Racconta dunque. Io non so nulla, madonna. Chi sa dunque questa storia? Mamma Lucia, Brigida, Maso il Cuoco, Anselmo e il Rosso, i due valletti di messere il Barone, e messer Bruno, il Capocaccia. E cos'hanno visto costoro? Nulla. Nulla. Cos'hanno udito dunque? Hanno udito ogni sorta di cose, che Dio ce ne liberi. E da quando si sono udite di queste cose che Dio ce ne liberi? Da che è morta la povera donna Violante, la prima moglie di messere? Qui? Proprio qui, in questo lato del castello, ma dalla cima dei merli sino in fondo alle cucine, di cui le finestre danno sulla corte. La baronessa si mise a ridere, e la sera narrò al marito quel che le era stato detto. Don Garzia, invece di riderne anch'esso, montò in una tal collera che mai la maggiore, e incominciò a bestemmiar Dio e i santi, come donna Isabella non aveva visto né udito fare dagli staffieri più staffieri che fossero a casa dei suoi fratelli, e a minacciare che se avesse saputo chi si permetteva di spargere cotali fandonie, l'avrebbe fatto saltare dal più alto rivellino del castello. La baronessa fu estremamente sorpresa che quel pezzo di uomo, il quale non doveva aver paura nemmen del diavolo, avesse dato tanto peso a delle sciocche storielle, e in cuor suo ne fu contenta, che si sentiva più degna del marito di portare i calzoni e di far la castellana come andava fatto. — Dormite in santa pace, madonna, le disse don Garzia, che qui, nel castello e fuori, pel giro di dieci leghe, sin dove arriva il mio buon diritto e la mia buona spada, non c'è a temere altro che la mia collera. Però la baronessa, sia che le parole del marito l'avessero colpita, sia che delle sciocchezze udite le fosse rimasta qualcosa in mente, si svegliò di soprassalto, verso la mezzanotte, crendo d'aver udito o d'aver sognato un rumore indistinto, non molto lontano, proprio dietro la parete dell'alcova. Stette in ascolto con un po' di batticuore, ma non suddiva più nulla. La lampada notturna ardeva ancora, e il barone russava della meglio. Ella non ardì svegliarlo, ma non poté ripigliare sonno. Il giorno dopo, la sua donna la trovò pallida ed accigliata, e mentre la pettinava dinanzi allo specchio, la baronessa, coi piedi sugli alari e bene avvolta nella sua veste da camera di broccato, le domandò, dopo aver esitato alquanto, Orsù, dimmi tutto quel che sai degli spiriti del castello. — Io non so altro che quelle che ne ho udito raccontare da Rosso e da Brigida. Volete che vi chiami Brigida? — No, rispose con vivacità donna Isabella. Anzi, non dire ad anima viva che io te ne abbia parlato. Raccontami quel che t'hanno detto, Brigida e il Rosso. Brigida, quando dormiva nella stanzuccia accanto al corridoio qui vicino, udiva tutte le notti, poco prima o poco dopo, dei dodici colpi della campana grossa, aprire la finestra che dà sul ballatoio e la porta del corridoio. La prima volta che Brigida udì quel rumore fu la seconda domenica dopo Pasqua. La ragazza aveva avuto la febbre e non poteva dormire. L'indomani, tutti coloro ai quali raccontò il fatto, credettero che fosse stato inganno della febbre, ma la poverina, a misura che il giorno tramontava, aveva una gran paura, e cominciò a parlare in tal modo del gran viavai della notte, che tutti credettero fosse delirante, e mamma Lucia rimase a dormire con lei. L'indomani anche mamma Lucia disse che in quella camera non avrebbe voluto passarci un'altra notte per tutto l'oro del mondo. Allora anche coloro i quali s'erano mostrati più increduli cominciarono ad informarsi e del come e del quando, e Maso raccontò quello che non aveva voluto dire per timore di farsi dar la baia dai più coraggiosi. Da più di un mese aveva udito rumore anche nel tinello, e s'era accorto che gli spiriti facevano man bassa sulla credenza. A poco a poco raccontò pure quel che aveva visto. Visto? Sì, madonna, sospettando che alcuno dei guatteri gli giocasse quel tiro, si appostò nell'andito, dietro il tinello, col suo gran coltellaccio alla cintola, e attese la mezzanotte, ora in cui soleva si udire il rumore. Quando tutto a un tratto non si udiva ronzare nemmeno una mosca, si vede comparir dinanzi un gran fantasma bianco, il quale gli arriva addosso senza dire né hai né oi, e gli passa rasente, senza fare altro rumore di quel che possa fare un topo, che va a caccia del formaggio vecchio. Il povero cuoco non volle sapere altro, e fu a un pelo di buscarne una bella e buona malattia. — Ah! disse la baronessa ridendo, e cosa fece in seguito? Non fece nulla. Acqua in bocca andò a confessarsi, a comunicarsi, ed ogni sera, prima di mettersi in letto, non mancava di recitare le sue orazioni, e di raccomandarsi ben bene a tutte le anime del purgatorio, che sogliono gironzare la notte in bosca di requiem e di suffragi. Già che sono degli spiriti, i quali rubano in tinello come dei gatti affamati, o dei guatteri ladri. Se fossi stato in Messermaso, invece di infilar pater nostri, mi sarei raccomandata alla mia miglior lama, onde cercare di scoprire chi fosse il gaglioffo che si permetteva di scambiarle parti coi fantasmi. — Oh, madonna! La stessa cosa disse il rosso, il quale un pezzo di giovinotto, che il diavolo stesso, che è il diavolo, non gli farebbe paura. E si mise a ridere forte, e gli disse bastargli l'animo di prendere lo spirito, il fantasma, il diavolo stesso per le corna, e fargli vomitare tutto il ben di Dio, di cui dicevasi si desse una buona satolla in cucina. Ma mai non l'avesse fatto! La notte seguente s'apposta anche lui nel corridoio, come aveva fatto il cuoco, con la sua brava partigiana in mano, ed aspetta un'ora, due, tre. E infine comincia a credere che Maso si sia burlato di lui, e che il vino gli abbia fatto dire una burletta, e comincia ad addormentarsi, così seduto sulla panca e con le spalle al muro. Quando ecco tutta un tratto, tra veglia e sonno, si vede dinanzi una figura bianca, la quale toccava il tetto col capo, e stava ritta dinanzi a lui, senza muoversi, senza che avesse fatto il minimo rumore nel venire, senza che si sapesse da dove fosse venuta. Un po' di barlume veniva dalla lampada posta nella sala delle guardie, dal vano dell'arco al di sopra della parete, e il rosso giura d'aver visto i due occhi che il fantasma fissava su di lui, lucenti come quelli di un gatto soriano. Il rosso, o non fosse ancora ben sveglio, o provasse un po' di paura per quella abita apparizione, senza dire né una né due, mise mano alla sua partigiana, e menò tal colpo, da spaccare in due un toro, fosse stato di bronzo. Ma la spada gli si ruppe in mano, così come fosse stata di vetro o avesse urtato contro il muro. Si vide un fuoco d'artifizio di faville, a guisa dei razzi che si sparano per la festa della Madonna dell'Ognina, e il fantasma scomparve, né più né meno di come fa un soffio di vento, lasciando il rosso atterrito, col suo troncone di spada in mano, e talmente pallido da far paura a chi lo vide per il primo, e dall'ora in poi, invece di chiamarlo il rosso, gli dicono il bianco. La baronessa rideva ancora, in aria di incredulità, ma le sue ciglia si corrugavano di tanto in tanto, e pur tenendo gli occhi fissi nello specchio, non avea badato né al come Grazia le stesse pettinando, né al come le avesse increspato i cannoncini della sua gorgerina ricamata. O che la convinzione della cameriera fosse talmente sincera da esser comunicativa, o che il sogno della notte avesse fatto una potente impressione su di lei, pensava più che non volesse alla notte che doveva passare un'altra volta in quella medesima alcova. — E cosa si dice nel castello di goteste apparizioni? — domandò dopo un silenzio di qualche durata. — Madonna! — Parla! — Madonna, si dicono delle sciocchezze. — Raccontamele. Messere il barone andrebbe su tutte le furie, se lo sapesse. — Tanto meglio! Raccontamele! — Madonna! Io sono una povera fanciulla, sono un'ignorante, avrò parlato senza sapere quel che mi dicessi. Messere il barone mi butterebbe dalla finestra più facilmente che io non butti via questo pettine che non serve più. Per carità, madonna, non vogliate espormi alla collera di Messere. — Preferiresti esporti alla mia? esclamò la baronezza, aggrottando le ciglia. — Ahimè! Madonna! Orsù, spicciati! Voglio sapere tutto quello che si dice, ti ripeto, e bada che se la collera del barone è pericolosa, la mia non ischerza. — Si dice che sia l'anima della povera donna violante, la prima moglie del barone, rispose Grazia, messa alle strette, e tutta tremante. — Com'è morta donna violante? — S'è buttata in mare. — Lei! — Proprio lei, dal ballatoio mezzo rovinato, che gira dinanzi alle finestre del corridoio grande, sugli scogli che stanno laggiù. In fondo al precipizio fu trovato il suo velo bianco. Era la notte del secondo giovedì dopo Pasqua. — E perché si è uccisa? Chi lo sa? Messere dormiva tranquillamente accanto a lei, fu svegliato da un gran grido, ma non se la trovò al fianco, e prima che fosse ben sveglio, vide una figura bianca, la quale fuggiva. Si udì un gran baccano per il castello. Tutti furono in piedi in men che non si dica un Ave Maria. Si trovarono gli usci e le finestre del gran corridoio spalancati, e il barone che correva sul ballatoio come un gatto inferocito. Se non era il capocaccia il quale l'afferrò a tempo, il barone sarebbe caduto dal parapetto rovinato, nel punto dove cominciava la scala, per la torretta di guardia, di cui non rimangono altro che le testate degli scalini. Il fantasma era scomparso giusto in quel luogo. La baronessa s'era fatta pensierosa. — È strano! — mormorò. Della signora non rimase, né si vide altro che quel velo. Nella cappella del castello e nella chiesa del villaggio furono dette delle messe per tre giorni, in suffraggio della morta, e una gran folla assiste ginocchioni ai funerali, che tutti le volevano un ben dell'anima per le gran limosine che faceva quando era in vita. Però, sebbene Messere avesse dato ordine che le esecue fossero quali si convenivano a così ricca e potente signora e la bara con le armi della famiglia ricamate sulle quattro punte delle coltre, tesse tre di e tre notti nella cappella, con più di quaranta ceri accesi continuamente, e lo stendardo grande ai piedi dell'altare, e drapelloni e scudi intorno che mai non si vide pompa più grande, il barone partì immediatamente. né si vide mai più al castello prima d'ora. — Meno male! — mormorò donna Isabella. — Don Garzia non mi ha mai detto nulla di tutto ciò, ma è bene che io lo sappia. Alcuni pescatori, poi, che erano andati sul mare assai prima degli altri, raccontano d'aver visto l'anima della baronessa tutta vestita di bianco, come una santa che ella era, sulla porta della guardiola lassù, a passeggiare tranquillamente su e giù per la scala rovinata, ove un gabbiano avrebbe paura ad appollaiarsi, quasi stesse camminando su di un bel tappeto turco, e nella miglior sala del castello. — Ah! esclamò la baronessa, e non disse altro, si alzò e andò a mettersi alla finestra. Il giorno era tiepido e bello, e il sole festante che entrava dall'alta finestra sembrava rallegrasse la tetra camera. Ma donna Isabella non se ne avvedeva, sembrava meditabonda, e, voltandosi a un tratto verso la grazia, mostrami dov'è caduta donna Violante, le disse. Colà, in quel punto dove il muro è rotto, e cominciava la scala per la guardiola della sentinella, quando vi si metteva una sentinella. — E perché non ci si mette più adesso? domandò la baronessa con un singolare interesse. — Bisognerebbe avere le ali per arrampicarsi lassù, adesso che la scala è rovinata, il più ardito manovale non metterebbe i piedi su quel che rimane degli scalini. — Ah, è vero! E rimase contemplando lungamente la torricciola, la quale, isolata com'era, sembrava attaccarsi, paurosa dell'abisso che spalancavasi al di sotto, alla cortina massiccia, e gli avanzi della scalinata, cadenti, smantellati, senza parapetto, sospesi in aria quattrocento piedi, dal precipizio sembravano un addentellato per qualche costruzione fantastica. — Infatti, — mormorò come parlando fra di sé, — sarebbe impossibile, c'è da averne il capogiro soltanto a guardare. Si tirò indietro bruscamente e chiuse la finestra. Grazia, vedendo la sua beffarda padrona così accigliata, e accorgendosi che la sua storia avea fatto tale inattesa impressione su di lei, sentiva una tale paura, come se avesse dovuto passare la notte nella camera di Rosalia. — Ahimè, madonna, io ho detto tutto per obbedirvi, e senza pensare che ci va della mia vita, se lo risapesse il barone. Abbiate pietà di me, madonna. — Non temere, rispose donna Isabella con un singolare sorriso, coteste cose, vere o false, non si raccontano al mio signore marito, ma dimmi anche quel che si dice del motivo che abbia spinto donna Violante ad uccidersi, poiché un motivo qualunque ci sarà stato, qualcosa si dirà, a torto o a ragione, di. — Sì, giuro, per le cinque piaghe di nostro signore, e per la santa giornata di venerdì che oggi, che non si dice nulla, o almeno che non so nulla. Da principio, quando si è incominciato a sentire dei gemiti nelle notti di temporale, ed anche tutte le notti, dal sabato alla domenica, e tutte le volte che fa la luna, o che qualche disgrazia deve avvenire nel castello o nei dintorni, si credeva che la beronessa fosse morta in peccato mortale, e perciò la sua anima chiedesse aiuto dall'altro mondo, mentre i demoni l'attalagnavano. Ma poi Beppe, il pescatore, raccontò la visione che gli apparve sull'alto della guardiola, e alcuni giorni dopo quel bravo vecchio di suo zio Gaspare la ebbe confermata, e si ebbe la certezza che l'anima benedetta della baronessa era in un luogo di salvazione, e si pensò invece a quella di Corrado il Paggio, poveretto. — Com'era morto il Paggio? S'era ucciso anche lui? — Non era morto, era scomparso. — Quando? — Due giorni prima della morte di Donna Violante. E chi l'avea fatto sparire? — Chi? — balbettò la ragazza, facendosi pallida. Ma chi può far sparire un'anima del Signore e portarsela a casa sua, come un lupo ruba una pecora, messer demonio? — Ah! era dunque un gran peccatore, cotesto messer Corrado. No, madonna, era il giovane più bello e gentile che sia stato al castello. La baronessa si mise a ridere. — Mia povera grazia! Quelli sono i peccatori che messer demonio so rapire a cotesta maniera, e poi, rifacendosi pensosa, volse un lungo e profondo sguardo su quel letto dove il gemito pauroso l'avea fatta sussultare la notte. — Quando si odono questi gemiti dell'altro monto? — domandò. — In quelle notti in cui il fantasma non si fa vedere. — È strano! E dove? — Qui, madonna, in questa alcova e nell'andito che c'è accanto, nel corridoio che passa vicino a questa camera, e nello spogliatoio che è dietro l'alcova. — Insomma, qui vicino! Per tutta risposta grazia si fece il segno della croce. La baronessa strinse le labbra tutta un tratto. — Va bene, le disse bruscamente, ora vattene, non temere, non dirò nulla di quel che mi hai detto. FINE DEL SECONDO CAPITOLO TERZO CAPITOLO DI LE STORIE DEL CASTELLO DI TREZZA Di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Francesca Roma Capitolo terzo Donna Isabella passò la giornata ad esaminare minutamente le stanze, anditi e corridoi vicini alla sua camera, e Don Garzia le chiese inutilmente il motivo della sua preoccupazione. La notte dormì poco e agitata, ma non udì nulla, soltanto il vento che s'era levato verso l'alba faceva sbattere una delle finestre che davano sul ballatoio. L'indomani la baronessa era ancora in letto, quando da dietro il cortinaggio udì il seguente dialogo fra suo marito e il Rosso, che l'aiutava a calzare i grossi stivaloni. — Dimmi un po', Mariolo, cos'è stato tutto questo baccano che hanno fatto le mie finestre stanotte? Il Rosso si grattò il capo e rispose. — È stato che un'ora prima dell'alba si è messo a soffiare lo scirocco. — Sarà benissimo, ma se le finestre fossero state ben chiuse, lo scirocco non avrebbe potuto farle ballare come una ragazza che abbia il male di San Vito. Ora vada bene al tuo dovere, Marrano! Che nel castello intendo tutto vada come l'orologio, e che sul campanile della chiesa adesso che son qua io! — Messere, voi siete il padrone, rispose il Rosso esitando, ma quella finestra lì bisogna lasciarla aperta. Dimmi il perché. — Perché quando si chiude la finestra si sente. — Eh? — Si sente, messere. — Malannaggia l'anima tua! urlò il barone, dando dipiglio ad uno stivale per buttarglielo in faccia. — Messere, voi potete ammazzarmi, se volete, ma ho detto la verità. — Chi te l'ha soffiata, cotesta verità, briccone maledetto? — Ho visto e udito come vedo e dodo voi, che siete in collera per la mia disgrazia e senza mia colpa. — Tu! — Io stesso! tu mi rubi il vino della mia cantina, scampaforche! io non avevo bevuto né acqua né vino, messere. Tu mi diventi poltrone dunque, un gatto che fa l'amore ti fa paura. diventi vecchio, rosso mio, arnese da ferra vecchi, e ti butterò fuori dal castello con un calcio più sotto delle reni. — Messere, io son buono ancora a qualche cosa, quando vi metterete di faccia una dozzina di diavoli in carne e ossa, che possano raggiungersi con un buon colpo di partigiana, o che possano ammazzare me come un cane, ma contro un nemico il quale non ha né carne né ossa, e vi rompe il ferro nelle mani, come fareste di un fil di paglia. per l'anima che darei al primo cane che volesse, non so cosa potreste fare voi stesso, sebbene siate tenuto il più indiavolato barone di Sicilia. Il barone questa volta si grattò il capo, e si accigliò, ma senza collera, o almeno senza averla corrosso. — Orbe, gli disse, chiudivi bene tutte le finestre stanotte, e vattene a dormire senza pensare ad altro. Donna Isabella si levò pallida e silenziosa più del solito. — Avreste paura? domandò Don Garcia. — Io non ho paura di nulla, rispose secco secco la baronessa. Ma la notte non poté chiudere occhio, e mentre suo marito russava come un contrabbasso, ella si voltava e rivoltava pel letto, e ad un tratto scotendolo bruscamente pel braccio, e rizzandosi a sedere con gli occhi sbarrati e pallida in viso, — Ascoltate! gli disse. Don Garcia spalancò gli occhi anche lui, e vedendola così si rizzò a sedere sul letto, e mise mano alla spada. — No! disse ella, la vostra spada non vi servirà a nulla. — Cosa avete udito? Ascoltate! Entrambi rimasero immobili, zitti, intenti. Al fine Don Garcia buttò la spada con dispetto in mezzo alla camera, e si ricoricò, sacramentando. — Mi diventate matta anche voi, borbottò, quella canaglia del rosso vi ha fatto girare il capo, gli taglierò le orecchie a quel mariolo. — Zitto! esclamò la donna nuovamente, e questa volta con tal voce, con tali occhi, che il barone non lo so replicare molto. — Udiste! — Nulla, per l'anima mia! Ad un tratto si rizzò a sedere una seconda volta, se non pallido e turbato come la sua donna, almeno curioso ed attento, e cominciò a vestersi, mentre infilava gli stivali trasalì vivamente. — Udite! ripetè Don Isabella, facendosi la croce. Egli attaccò una grossa bestegna invece della croce, saltò sulla spada che aveva gettato in mezzo alla camera, e così come era, mezzo svestito, con la spada nuda in pugno al buio, si slanciò nell'andito che era dietro all'alcova. Ritornò poco dopo. — Nulla! disse. Le finestre sono chiuse. Ho percorso il corridoio, l'andito, lo spogliatoio, siamo matti, voi ed io. Lasciatemi dormire in pace adesso, giacché se domani il rosso venisse a sapere quel che ho fatto stanotte, e sino a qual segno sia stato imbecille, dovrei vergognarmi anche di lui. Ne si udì più nulla. La baronessa rimase sveglia, e Don Garzia, sebbene avesse attaccato di nuovo due o tre russate sonore, non poté dormire di seguito, come al solito. All'alba si alzò con tal cera che il rosso, spicciatosi alla svelta dei soliti servigi, stava per battersela. — Armatemi, Bruno! gli disse il barone, e ricominciò a passeggiare per la camera, mentre la baronessa stava pettinandosi. Donna Isabella, preoccupata, lo seguiva con la coda dell'occhio, e lo vide andare per l'andito, lo dì camminare nello spogliatoio, poi lo vide ritornare, scuotendo il capo e mormorando fra di sé. No, è impossibile! Bruno e il rosso comparvero. — Vecchio mio, gli disse il barone, ti senti di buscarti un bel ducato d'oro e passare una notte nel corridoio qui accanto, senza tremare come la rocca di una donnicciuola cui si parli di spiriti? — Messere, io mi sento di far tutto quel che comandate, rispose Bruno, ma non senza alquanto esitare. Il barone, che conosceva da un pezzo il suo Bruno, per un bravaccio indurito a tutte le prove, fu sorpreso da quell'esitazione e dallo scorgere che il Bruno, contro ogni aspettativa, s'era fatto serio. — Per l'inferno! — gridò battendo un gran pugno sulla tavola. — Mi diventate tutti un branco di poltroni qui. — Messere, per provarvi come poltroni non lo siamo tutti, farò quel che mi ordinerete. — E anch'io, rispose il rosso, vergognoso di non esser messo alla prova invece del capocaccia, così non avrete più a dubitare delle parole nostre. — Orbene, giacché tutti avete visto, giacché tutti avete udito, giacché tutti avete toccato con mano, fatemi buona guardia stanotte. Appostatevi sul cammino che suol tenere cotesto gaglioffo che ha messo la tremarella addosso a tutta la mia gente. Da qual parte si suol vedere questo fantasma? Nel corridoio qui accanto, di solito, ma nessuno ha più visto nulla da che quest'ala del castello non è stata più abitata. — Tu, Bruno, ti porrai alla guardia dietro l'uscio che mette nella sala grande, e il rosso dietro la finestra, in capo al corridoio. — Allorché cotesto spirito malnato sarà dentro, e voi avrete accanto le vostre brave draghe, e non vi tremerà né la mano né il cuore, il ribaldo non potrà scappare altro che dalla mia camera, e allora pel mio Dio o pel suo diavolo l'avrà da fare con me. Andate, e buona guardia! — Io credo che farete meglio ad ordinare delle messe per l'anima della vostra donna violante. Gli disse la baronessa, seria, seria, allorquando furono soli. Il barone fu sul punto di mettersi in collera, ma seppe padroneggiarsi, e rispose in aria di scherno. — Da quando in qua mi siete divenuta credula come una femminuccia, moglie mia? — Da che vedo ed odo cose che non ho mai udite né viste. — Cosa avete udito, di grazia? — Quel che avete udito voi, ribatte essa senza scomporsi. Don Garzia s'accigliò. — Io non ho udito né visto nulla! esclamò dispettosamente. — Ed io ho visto voi come vi vedo in questo momento, e come sareste sorpreso voi stesso di vedervi se lo poteste. — Ah! esclamò il barone, con un riso che mostrava i suoi denti bianchi ed aguzzi al pari di quelli di un lupo, è che mi avete fatto girare il capo anche a me, ed ho paura anch'io. — Credete che io abbia paura, messere? Il messere non rispose, e andò a mettersi alla finestra di un umore più nero delle grosse nuvole che s'accavallavano sull'orizzonte. Fine del capitolo terzo Di Giovanni Verga Capitolo quarto di Le storie del castello di Trezza Di Giovanni Verga Questa è una registrazione LibriVox ed è di dominio pubblico, letto da Francesca Roma. Capitolo quarto Il barone fu insolitamente sobrio a cena quella sera. Don Isabella andò a coricarsi senza dire una parola, senza fare un'osservazione, ma pallida e seria. Don Garcia, quando si fu accertato che il rosso e il bruno erano già al loro posto, andò a letto e disse alla moglie, motteggiando. Stanotte vedremo se il diavolo ci lascerà la coda. Il barone del resto era di tale umore da non permetterne talune. L'indomani però disse egli risolutamente che non intendeva dormire più oltre in quella camera. — Aspettate ancora stanotte, rispose il marito. Farò buona guardia io stesso. E se domani non riderete delle vostre paure vi lascerò padrona di far quel che meglio vorrete. Ella non osò aggiunger verbo. Soltanto qualche momento dopo gli domandò. — Di che malattia è morta la vostra prima moglie, messere? Ella guardò bieco e rispose. — Di mal caduco, madonna. — Io non avrò cotesto male, vi prometto, disse ella con strano accento. Don Garcia, insieme a tutti i vizi del soldato di ventura e del gentiluomo brigante, ne avea la sola virtù, una bravura a tutta prova. Egli fece quel che non osava più fare Bruno, il terribile Bruno, e per cui era mezzo morto anche il rosso, giovanotto ardito, se mai ce ne fossero. E passò tre notti di seguito nel corridoio, senza batter ciglio, senza muoversi più che non si muovesse il pilastro al quale stava appoggiato con la mano sull'elsa della spada e l'orecchio teso. Il vento sbatteva le imposte della finestra, che era stata lasciata aperta per ordine suo, i gufi svolazzavano sul ballatoio, i pipistrelli si inseguivano stridento berlandito, il lume della lampada riverberavasi pel vano dell'arco della sala delle guardie, e sembrava vacillare. Ma del resto tutto era quieto, e Don Garzia sarebbe si stancato di passar le notti in sentinella, come un uomo d'armi, se il ricordo di quel che avea visto coi propri occhi non fosse stato ancora profondamente impresso nella sua mente. E se una parola della moglie non gli avesse messo in corpo una di quelle preoccupazioni? Che non lasciano più dormire né lo spirito né il corpo, uno di quei dubbi che imperiosamente domandano uno schiarimento. La sua coscienza dormiva ancora, ma le sue reminiscenze, taluni circostanze lasciate passare inosservate, si svegliavano ad un tratto. Gli serizzavano dinanzi in forma di tal sospetto, che Don Garzia, zotico, brutale, dispotico signore, scettico e superstizioso ad un tempo, ma in fondo sinceramente barone, vale a dire ossequioso al re e alla chiesa, che lo facevano quello che egli era, se ne sentiva padroneggiato, e provava il bisogno di scioglierlo con la persuasione o con la spada. Era la quarta notte che Don Garzia attendeva. Il mare era in tempesta, il tuono scuoteva il castello dalle fondamenta, la grandine scrosciava impietuosamente sui vetri, e le banderuole dei torrioni gemevano ad intervalli. Di tanto in tanto un lampo solcava il buio del corridoio per tutta la sua lunghezza, e sembrava gettarvi un'onda di spettri. Tutto a un tratto il lume che era nella sala delle guardie si spense. Don Garzia rimase al buio. Le tenebre che lo avvolgevano sembravano stringerlo ed opprimerlo da tutte le parti, soffocargli il respiro nel petto, la voce nella gola, e inchiodargli il ferro nella guaina. Improvvisamente quel soldataccio risoluto sentì un brivido che gli penetrava tutte le ossa. Fra le tenebre, in mezzo a tutti quei rumori vari, confusi, ma che aveano un non so che di pauroso, parvegli udire un altro rumore più vicino, più spaventoso, tale da far battere di febbre il polso di quell'uomo. Le tenebre furono squarciate da un lampo, e videsi di faccia, ritta, immobile, quella figura bianca che aveva visto fuggire un'altra volta dinanzi a lui, e dall'ora in poi aveva inseguito lui nella coscienza o nel pensiero. Ora lo guardava con occhi lucenti e terribili. Tutto ciò non fu che un istante una visione. Coi capelli irti vibrò una stoccata formidabile, sentì l'Elsa urtare contro qualche cosa, udì un grido di morte che gli agghiacciò tutto il sangue nelle vene, e in un delirio di terrore gli fece ritirare la spada e fare un salto indietro, atterrito, chiamando la sua gente con quanta voce avea in corpo. Scorsero due o tre minuti terribili, in cui non si udì più nulla, e gli rimase in mezzo a quel buio, vicino a quella cosa che la sua spada aveva toccato. Pel castello su di un gran tramestio si vide correre della gente, e sulle pareti cominciarono a riflettersi le fiaccole dei valletti. Don Garzia si slanciò sull'uscio gridando, — Non entri nessuno all'infuori del Bruno, se beccara la vita! Tutti s'erano fermati attoniti vedendo il barone così pallido, con l'occhio stralonato e la spada in pugno ancora macchiata di sangue, Bruno entrò e vide uno spettacolo orribile. Vicino alla parete giaceva il cadavere di Donna Violante, vestita del suo accappatoio bianco, come era fuggita dal letto del marito la notte in cui s'era creduto che si fosse buttata in mare. Il viso avea pallido come cera, e dimagrato enormemente, i capelli arruffati ed incolti, gli occhi spalancati, lucidi, fissi, spaventosi. La ferita era stata mortale, e non sanguinava quasi. Solo alcune gocce di sangue le erano uscite dalla bocca e le rigavano il mento. — Avevi ragione, Bruno, disse il barone con voce sorda. Non volevo crederci ai fantasmi, le credevo sciocchezze di femminucce, ma adesso ci credo anch'io. I sogni a buttare in mare questa forma della mia povera moglie che ha preso lo spirito maligno, e senza che nessuno al castello e fuori ne sappia nulla, che sarebbero capaci di inventarci su non so quale storia assurda. Bruno capiva, e non ebbe bisogno d'altre spiegazioni, però il suo signore non dimenticò di aggiungere sottovoce. — Senti, vecchio mio, sai bene che se la cosa si risapesse così come sembra essere avvenuta, io sarei stato bigamo e peggio, e la tua testa sarebbe assai malferma sulle tue spalle, in fede mia. In chiesa, ricorrendo l'anniversario della morte di donna Violante, le furono resi dei pomposi e costosi suffragi. Però, non si sa come, cominciavasi a buccinare al castello e fuori, che la cosa non fosse proprio avvenuta come sembrava, e come don Garzia non voleva che sembrasse. E Bruno, il quale perciò cominciava a dubitare che la sua testa non fosse ben ferma sulle spalle, un bel giorno, a caccia, mise per distrazione una palla d'archibugio, farà la prima e la seconda vertebra del suo signore. Donna Isabella, che aveva una gran paura del mal caduco, era andata a villeggiare presso la sua famiglia, e siccome l'aria le faceva bene, non era più ritornata. Fine del Capitolo Quarto Capitolo Quinto delle Storie del Castello di Trezza Di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Francesca Roma Capitolo Quinto Questa era la leggenda del Castello di Trezza, che tutti sapevano nei dintorni, che tutti raccontavano in modo diverso, mescolandovi gli spiriti, le anime del Purgatorio e la Madonna dell'Ognina. I terremoti, il tempo, gli uomini, avevano ridotto un mucchio di rovine, la splendida e forte dimora, di signori quali, al tempo di Artale d'Alagona, aveano sfidato impunemente la collera del re, e sembravano avervi impresso una stimate maledetta, che dava una misteriosa attrattiva alla leggenda, e affascinava lo sguardo della signora Matilde, mentre ascoltava silenziosamente. — E di quell'uomo? domandò improvvisamente, di quel giovanetto che per sua disgrazia non era morto cadendo dal trabocchetto, e che vi agonizzava lentamente. cosa ne è avvenuto? chissà, forse il barone avrà udito ancora dei gemiti soffocati, o delle grida disperate che imploravano la morte. forse, dopo alcuni giorni, si sarà sentito il lezzo del cadavere da quella specie di pozzo, forse avrà voluto prevenire che ciò avvenisse, vi fece gettar della calce viva, e non si sentì più nulla. — È una storia spaventosa, — mormorò la signora Matilde. — Togliamone pure i fantasmi, il suono della mezzanotte, il vento che spalanca usce finestre, e le banderuole che gemono, è una spaventosa storia, una storia la quale non sarebbe più possibile oggi che i mariti ricorrono ai tribunali, o alla peggio si battono, rispose Luciano ridendo. — Ella gli agghiacciò il riso in bocca con uno sguardo singolare. — Lo credete? domandò. — Luciano mutò lì per quello sguardo, per quell'accento, per sentirsi darle il voi così distrattamente, e a quella guisa, sopraggiungeva il signor Giordano. — Parlatemi d'altro, disse la sottovoce con singolare vivacità, non discorriamo più di cotesto. Fine del quinto capitolo Capitolo sesto di Le storie del castello di Trezza, di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico Letto da Francesca Roma Capitolo sesto Il signor Luciano e la signora Matilde si vedevano quasi tutti i giorni, in quella piccola società d'amici che le veglie o le escursioni per intorni riunivano quotidianamente. La signora fu indisposta due o tre giorni, e non si fece vedere. Allorché si incontrarono la prima volta parve così mutata Luciano che ei le domandò premurosamente della salute. Il contegno di lei, le sue risposte, furono così imbarazzate che il giovane ne fu imbarazzato egli pure, senza saper perché. Evidentemente ella lo evitava, era sempre allegra, spiritosa ed amabile con tutti, ma con lui era cambiata. Anche il marito avea cambiato maniere, senza che nulla fosse avvenuto, senza che una parola fosse stata detta, senza che Luciano stesso sapesse ancora perché ei fosse così turbato, perché l'imbarazzo di lei rendesse imbarazzato anche lui, e perché si fosse accorto del cambiamento del signor Giordano. Una bella sera di luna piena, tutta la comitiva era uscita a passeggiare, e Luciano frì risolutamente il braccio alla signora Matilde. Ella esitò alquanto, ma non lo so rifiutare. Camminavano lentamente, in silenzio, mentre gli altri ciarlavano e ridevano. Ad un tratto, ella gli strinse il braccio, e gli disse con un soffio di voce, — Vedete? Il signor Giordano era lì presso, dando di braccio alla signora Olani, la mano che stringeva il braccio di Luciano era convulsa e tremante, la voce avea una vibrazione insolita. Quando il signor Giordano ebbe lasciata al cancello della villa la signora Olani, sembrò lasciare anche una maschera che si fosse imposta sino a quel momento, e mostrò si sopra pensieri, taciturno e accigliato. — Ho paura, ho paura di lui, — mormorò Matilde sottovoce. Luciano premette quel braccio delicato che s'appoggiava leggermente al suo, e che gli rispose tremante, e gli si abbandonò confidente e innamorato, a lui che non avrebbe potuto proteggerla neppure, dando tutto il sangue delle sue vene. Si volsero uno sguardo, uno sguardo solo, lucente nella penombra, quello della donna smarrita, e chinarono gli occhi. Sull'uscio della casa si lasciarono, e non so stringerle la mano. Ella partì, né seppe già mai quali notti ardenti di visioni egli avesse passato, quali febbrei l'avessero roso accanto a lei, mentre sembrava così calmo e indifferente, quante volte fosse stato a divorarla, non visto, con gli occhi. E quel che si fosse passato dentro di lui, allorché sorridendo, dovette dirle addio dinanzi a tutti, e quando l'avete passare rincantucciata nell'angolo della carrozza, con le guance pallide e gli occhi fisi nel vuoto. E qual nodo d'amarezza gli avesse affogato il cuore, allorché rivide chiusa quella finestra, dove l'avea vista tante volte. L'indovinò? Indovinò egli stesso quel che avesse sofferto il lapore? Quando si incontrarono di nuovo, dopo lungo tempo parvero non conoscersi, non vedersi, impallidirono e non si salutarono. Finalmente si incontrarono un'altra volta, al ballo, in chiesa, al teatro, auspice Dio o la fatalità, e infine le disse, come potrei vedervi? E lei impallidì, si fece di braccia, chino gli occhi, glieli fissò ardenti nei suoi, e rispose, domani. E il domani si videro. Un'ora dopo, ella avea l'anima ebbera di estasi, i polsi tremanti di febbre e gli occhi pieni di lacrime. — Perché mi avete raccontato quella storia? ripeteva balbettando come in sogno. Era pentimento, rimprovero o presentimento? Alcuni mesi dopo, in autunno, la medesima compagnia d'amici si era riunita ad Acci Castello. I due, che s'amavano, avevano saputo nascondere la loro febbre, o il marito aveva saputo dissimulare la sua collera, o la signora Olani era stata più assorbente. Si vedevano come prima, si riunivano come prima, erano allegri, o sembravano come prima. Qualche fuggitivo rossore di più sulle gote, e qualche lampo negli occhi, null'altro. Si facevano le solite scampagnate. I solidi ballonzoli si andavano in barca, o a cavallo, o sugli asini, e si progettò anche il solito pranzo sulla vecchia torre del castello. La signora Matilde mise in mezzo tutti gli ostacoli, il marito la guardò in un certo modo, e le domandò la ragione dell'insolita ripugnanza. Andò anche lei. Il pranzo fu allegro come quello dell'anno precedente, si mangiò sull'erba, si ballò sull'erba, e si buttarono sull'erba le bottiglie dopo che ne furono fatti saltare i turaccioli. Si ciarlò del castello, di memorie storiche, dei normanni e dei saraceni, della pesca delle acciughe e dei secoli cavallereschi, e tornarono in campo le vecchie leggende, e si raccontò di nuovo a pezzi ed a bocconi la storia che Luciano aveva raccontato la prima volta in quel luogo medesimo, e che alcuni nuovi venuti ascoltavano con avidità, digerendo tranquillamente ed assaggiando il buon moscato di Siracusa. Luciano e la signora Matilde stavano zitti da lungo tempo, ed evitavano di guardarsi. Fine del sesto capitolo E che gli rispose tremante, e gli si abbandonò confidente e innamorato, a lui che non avrebbe potuto proteggerla neppure dando tutto il sangue delle sue vene. Si volsero uno sguardo, uno sguardo solo, lucente nella penombra, quello della donna smarrita, e chinarono gli occhi. Sull'uscio della casa si lasciarono, e io non so stringerle la mano. E la partì, né seppe già mai quali notti ardenti di visioni egli avesse passato, quali febbrei l'avessero roso accanto a lei, mentre sembrava così calmo e indifferente, quante volte fosse stato a divorarla, non visto, cogli occhi. E quel che si fosse passato dentro di lui, allorché sorridendo, dovette dirle addio dinanzi a tutti, e quando la vite passare rincantucciata nell'angolo della carrozza, con le guance pallide e gli occhi fisi nel vuoto. Capitolo settimo Le storie del castello di Trezza Di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox di dominio pubblico Letto da Francesca Roma Capitolo settimo Don Garzia d'Arvelo era diventato inaspettatamente a cinquant'anni, signore dei numerosi feudi che dipendevano dalla baronia di Trezza. Il barone e suo nipote era stato trovato in un burrone lungo stecchito, un bel dì o una brutta notte, che era andato a caccia di non so qual selvaggina. Il cavaliere d'Arvelo, ora che era barone, fece impiccare preliminarmente due o tre vassalli, i quali avevano la disgrazia di possedere bella selvaggina in casa, e la triste riputazione di tenere all'onore come altrettanti gentiluomini. Poi era montato a cavallo, e siccome sospettavasi anche che il signore di Grevia avesse saldato in quel tal modo spicciativo alcuni vecchi conti di famiglia, era andato ad aspettarlo ad un certo crocicchio, e senza stare a sofisticare, sulla probabilità del si dice, aveva messo il saldo alla partita. Soddisfatti così i suoi obblighi di Darvelo e di signore non uso a farsi posare mosca sul naso, era andato ad assidersi tranquillamente sul seggio baronale, avea appeso la spada al chiodo del suo antecessore, e tanto per farsi la mano da padrone, avea fatto sentire come la sua fosse di ferro a tutti quei poveri diavoli che stavano nei limiti della sua giurisdizione, ed anche delle sue scorrerie, che un bel po' del predone gli era rimasto con le vecchie abitudini di cavalier di ventura. Tutti coloro che nel requiem ordinato in suffragio del giovine barone avevano innestato sotto voce certi mottetti che non erano nella liturgia, ebbero a pentirsene, e dovettero ripetere senza che sapessero di storia il detto della vecchia di Nerone. Lupo per lupo il vecchio che succedeva al giovane mostrava tali ganasce e tale appetito che a paragone il lupacchiotto morto diventava un agnellino. Il cavaliere cadetto di grande famiglia era stato tanto tempo ad aguzzarsi le zanne e ad ustolare attorno a tutto quel ben di Dio in cui sguazzava il nipote, capo della casa e suo signore padrone, che, malgrado le scorrerie di tutti i generi sulle quali il fratello e posce il nipote avevano chiuso un occhio, si poteva dire di lui che fosse affamato da cinquant'anni, sicché era naturalissimo che allorquando pote darsi una buona satolla di tutti gli intingoli del potere più sfrenato, lo fece da ghiottone, il quale abbia stomaco di struzzo. Del resto il re, suo signore dopo Dio, era lontano, e i Darvelo erano d'illustre famiglia, grandi di Spagna, di quelli che non si sberrettano né dinanzi al re, né dinanzi a Dio, titolari di diverse cariche a corte, baroni ricchi e potenti, un po' alleati della mano sinistra coi barbareschi, di quei mastini insomma che andavano lisciati pel verso del pelo. Don Garzia andò a corte, si battè con un gentiluomo che osò ridere dei suoi baffi irsuti e dei suoi galloni consunti, e gli mise tre pollici di ferro fra le costole, prestò il suo omaggio di sudditanza al re, il quale lo invitò alla sua tavola, prima di condurla all'altare, ma dopo aver ben guardato nelle pergamene della famiglia della sposa e nei quattro quarti del suo blasone, la mise in una lettiga nuova, con buona mano d'uomini d'arme, ed i cagnotti davanti, ai lati e dietro, montò il suo cavallo pugliese e salamenò attrezza. La prima volta che Donna Violante si svegliò in quella brutta cameraccia, e al fianco di quel brutto sire, dovette essere un gran brutto svegliarsi. Ma ella era damigella di buona famiglia, ben educata all'obbedienza passiva, fiera soltanto del nome della sua casa e di quello che le era stato dato in tutela. Era stata strappata bruscamente alla calma del suo convento, ai tranquilli diletti, ai sogni vagamente turbati della sua giovinezza, ad un romanzetto appena abbozzato, ed era stata gettata, ella che aveva sangue di re nelle vene, nell'alcova di quel marrano, cui per caso era caduto in capo un berretto di barone. Ella avea accettato quel marrano, perché il re, il capo della sua famiglia, le leggi della sua casta glielo imponevano, e avea soffocato la sua ripugnanza, allorché la mano nera e callosa di quel vecchio s'era posata sulle sue spalle bianche e superbe, perché era suo marito. Dolce e gentile com'era, cercava a furia di dolce e gentili maniere raddolcire quel vecchio lupo che le ringhiava accanto, e le mostrava i denti aguzzi allorché voleva sembrare amabile. Però quello non era tal lupo cui l'acqua santa del matrimonio potesse far cambiare di pelo, e quanto avvizi avea tutti quelli che si incontrano sulla strada di un soldato di ventura, dietro le insegne delle bettole. Per giunta e per disgrazia donna Violante, dopo due anni di matrimonio, non solo non avea messo al mondo il dito mignolo d'un baroncino, ma non avea nemmeno l'aria di darsene per intesa, ed aver capito il motivo per cui don Garzia s'era tolto in casa la noia e la spesa di una moglie. Quella moglie, delicata, linfatica, con le mani bianche, che gli parlava voce bassa, che arrossiva le sue canzonette, allegre e alle sue esclamazioni gioviali, che scappava spaventata, allorché il sire era di buon umore, che non gli sapeva condire i suoi intingoli prediletti, e che non era stata buona nemmeno a dargli un successore, gli faceva l'effetto di un ninnolo di lusso, da tenersi sotto chiave come i diamanti di famiglia. Perciò, lungi di smettere le sue abitudini di lanzichenecco, ci s'era lasciata andare allegramente, senza prendersi nemmeno la pena di nasconderlo alla moglie, la quale era così timida e tremava talmente, allorché ei si metteva in collera alla meno un'osservazione, da sembrargli stupida. Cacciava, beveva, correva pei tetti e scavalcava le siepi, e quando ritornava ubriaco e di cattivo umore, guai alle mosche che si permettevano di ronzare. Un'ultima scappata di don Garzia, però, avea fatto tale scandalo che andò a colpire nel vivo quella vittima rassegnata. La fierezza di Patrizia, l'amor proprio di donna, la gelosia di moglie, si ribellarono al fine in donna violante, e le diedero per la prima volta un'energia fittizia. — Mio signore, disse ella con voce tremante, ma senza chinare gli occhi dinanzi al brusco cipiglio del marito, rimandatemi al convento dal quale m'avete tolta, poiché sono tanto scaduta dalla vostra stima. — Che vuol dir ciò, borbottò don Garzia, e che vi ha detto di esser scaduta? — Come va, dunque, che vi rispettiate così poco voi stesso da scender sino alla mena? Il barone stava per attaccare una mezza dozzina di quei sacrati che facevano tremare il castello sino dalle fondamenta, ma si contentò di sghignazzar forte. Da quando in qua, madonna, al castello di Trezza le galline si permettono di alzare la cresta? Badate a covarmi dei baroni piuttosto, com'è vostro dovere, e lasciatemi cantar mattutino e con pieta secondo il mio buon piacere. La baronessa, l'indomani, si era levata pallida e sofferente, ma con gli occhi luccicanti d'un insolito splendore, sembrava rassegnata, ma di una rassegnazione cupa, metita bonda, lampeggiante di tratto in tratto la ribellione e la vendetta. Quel marito istesso così rozzo, così brutale, fu una volta sorpreso e impensierito dell'aria, indefinibile d'insolita, di quella donna, che possava il capo sul suo medesimo guanciale, quantunque un sol muscolo di lei non si movesse, e volle mostrarle che le avea perdonato la sua velleità di resistenza con un bacio avvinazzato. Ella non lo respinse, non si mosse, rimase con gli occhi chiusi, le labbra scolorite e serrate, le guance pallide e ombreggiate dalla lunga frangia delle sue ciglia. Soltanto una lagrima ardente luccicò un momento fra quelle ciglia, e scese lenta, lenta. Fine del settimo capitolo Di Giovanni Verga Ottavo capitolo di Storie del Castello di Trezza di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Francesca Roma Capitolo ottavo Una sera il barone tardava a venire, la luna specchiavasi sui vetri storiati dell'alta finestra, e il mare fiottava sommessamente. La baronessa stava da lunga pezza assorta sulla sua alta seggio labbraccioli, col mento nella mano, distratta o meditabonda. Corrado, il bel paggio del barone d'Arvelo, l'aveva domandato inutilmente due volte se il comandasse di montare a cavallo, ed andare in traccia del suo signore. Al fine Donna Violante gli fissò in viso lo sguardo pensoso. Era un bel giovanotto, Corrado, dall'occhio nero e vellutato, e dalle guance brune e fresche, come quelle di una vaga fanciulla di trezza, così timido che quelle guance dorate si imporporavano alquanto sotto lo sguardo distratto della sua signora. Ella lo fissò a lungo senza vederlo. — No, disse Poscia. — Perché? Si alzò, andò ad aprire la finestra, e appoggiò i gomiti al davanzale. Il mare era levigato e lucente, i pescatori sparsi per la riva o aggruppati dinanzi agli usci delle loro casipole, chiacchieravano della pesca del tonno e della salatura delle acciube. Lontano, lontano, perduto fra la bruna distesa, si udiva ad intervalli un canto monotono e orientale. Le onde morivano come un sospiro ai piedi dell'alta muraglia. La spuma biancheggiava un istante, e l'acro odore marino saliva a buffi, come ad ondate anch'esso. La baronessa stette a contemplare sbadatamente tutto ciò, e sorprese se stessa, lei così in alto nella camera dorata di quella dimora signorile, ad ascoltare con singolare interesse i discorsi di quella gente posta così in basso al piede delle sue torri. Poi guardò il vano nero di quei poveri usci, il fiammeggiare del focolare, il fumo che svolgevasi lento lento dal tetto. Infine si volse bruscamente, quasi sorpresa dal paggio che, ritto sull'uscio, attendeva i suoi ordini. Guardò di nuovo la spiaggia, il mare, l'orizzonte segnato da una sfumatura di luce, l'ombra degli scogli, che andava e veniva con l'onda, e tornò a fissar Corrado, questa volta più lungamente. Ad un tratto arrossì, come sorpresa dalla sua distrazione, e per dir qualche cosa domandò sbadatamente. — Che ora è, Corrado? — So le due di notte, madonna. — Ah! Le sue ciglia si corrugarono di nuovo, chinò gli occhi un istante, e con un suono d'amarezza indicibile. Tarda molto stasera il barone. — Non temete, madonna, la campagna è sicura, la sera è bella, e la luna non ha una nube. — È vero, disse ella con uno strano sorriso, è proprio una sera da amanti. E seguitò a fissare il giovinetto col suo sguardo da padrona, senza pensare a lui che ne era colpito. lasciò la finestra, e andò a sedere sulla seggiola stemmata, ai piedi della quale si teneva il paggio, non più melanconica né meditabonda, ma inquieta, agitata, nervosa. — Conosci la mena? domandò ad un tratto bruscamente. — La mugnaia del capo dei Molini? — Sì, la mugnaia del capo dei Molini, ripeté con un singolare sorriso. — La conosco, madonna. — E anch'io, esclamò con voce sorda, me l'ha fatta conoscere mio marito. Per l'altera castellana Corrado non era altro che un domestico, un giovanotto che portava il suo stemma ricamato sul giusto cuore di velluto, e che era leggiadro, e avea la chioma bionda e inanellata per far onor alla casa. Ella dunque parlava come fra sé, con la sua eco, perché il suo cuore era troppo pieno, perché l'amarezza non s'era sfogata in lacrime, e gli fece una singolare domanda, con singolare accento e con gli occhi fissi al suolo. — Perché non sei l'amante della mena anche tu? — Io, madonna. — Sì, tutti vanno pazzi per cotesta mugnaia. — Io sono un povero paggio, madonna. Ella gli fissò in viso quello sguardo accigliato, e a poco a poco le sopracciglia si spianarono. — Povero o no, tu sei un bel paggio, non lo sai? I loro occhi si incontrarono un istante, e si evitarono nello stesso tempo. — Se la vanità del giovinetto si fosse risvegliata a quelle parole, tutto sarebbe fluito fra di loro, e l'orgoglio della patrizia si sarebbe inalberato così all'audacia del paggio che il cuore della donna si sarebbe chiuso per sempre. Ma il giovinotto sospirò e rispose, chinando gli occhi, ahimè, madonna. Quel sospiro aveva un'immensa attrattiva. Mille nuovi sentimenti confusi e violenti andavano gonfiandosi nell'animo della baronessa, come le nuvi su di un mare tempestoso. Ella, pura, bianca, superba, ella che discendeva da principi reali e da re castigliani, non poté fare a meno di paragonare quel giovinetto ingenuo, leggiadro, che avea cuore di cavaliere sotto una librea di domestico, a cui l'uomo rozzo, brutto, villano, coronato di barone, cui s'era data, e il quale la posponeva ad una bellezza da trivio che portava zoccoli ai pieti e sacchi di farina sul dorso. Lagrime ardenti le luccicarono nell'orbita, asciugate subito da qualcosa di più ardente ancora, divorate in segreto. Tutto quel movimento interno sembrava aver voce e parola, sembrava gridare da tutte le sue membre e da tutti i suoi pori, e il paggio osava fissare per la prima volta su quella sovrana bellezza, delirante in segreto e che faceva delirare i suoi begli occhi azzurri, scintillanti di luce insolita. — Corrado! esclamò ella all'improvviso, con voce sorda e interrotta, come perdesse la testa. Tu che la conosci, tu che sei uomo, dimmi se cotesta mugnaia è bella, se è più bella di me, dimmelo, non aver paura. Il giovanetto guardava affascinato quella donna corrucciata, fremente, gelosa, rossa, di onta e di dispetto, bella da far dannare un angelo. Impallidì e non rispose. Poi, con la voce tremante, con le mani giunte, con un accento che fece scuotere, trasalire, la sua signora esclamò. — Oh! abbiate pietà di me, madonna! Ella gli lanciò un'occhiata fosca, senza sguardo, e si allontanò rapidamente, fuggendo. Andò ad appoggiarsi al davanzale, a bere avidamente la fresca brezza della notte. Quattro ore suonavano in quel momento. Non si vedeva un sol lume, né si udiva una voce. Che cosa avveniva in quell'anima combattuta? Nessuno avrebbe saputo dirlo, lei meno di ogni altro. Che tali pensieri sono vertiginosi, tempestosi anche, com'è complesso il sentimento da cui emanano, ad un tratto volgendosi bruscamente verso di lui. — Senti, gli disse, hai torto, paggio o no, povero o no, sei bello e giovane da far perdere la testa, e hai torto a non esser l'amante della mena. Il tuo padrone, che è vecchio e brutto, l'ama. L'amore è la giovinezza, la beltà, il piacere. Non ci credevo, ma mio marito me l'ha insegnato, e questo marito non è né giovane, né bello, né gentile. Io mi son data a lui, ero bella, ti giuro, ero bella allora, delicata, tutta sorriso, e trepidante arcanamente sotto la ruvida mano che m'accarezzava. Nel convento avevo sognato tante volte che quella prima carezza mi sarebbe venuta da un'altra mano, bianca e delicata, che mi aveva salutato, e che le mie vergini labbra avrebbero rabbrividito la prima volta sotto quelle altre che m'avevano sorriso, ombreggiate da baffetti d'oro attraverso la grata. Invece furono le labbra essute del barone d'Arvelo. Colui era bello come te, biondo come te, giovane come te. Io gli aprei la mia beltà, la mia giovinezza, il mio primo bacio che gli avevo promesso col primo sguardo, il mio cuore che era suo. Per darli a quest'uomo cui m'avevano ordinato di darli, egli li diedi lealmente. Ora, senti, io sono povera come te, non possedevo che il mio bel nome, e gli ho dato anche quello, e ho combattuto i miei sogni, le mie ripugnanze, i palpiti stessi del mio cuore. Adesso quest'uomo cui ho sacrificato tutto ciò, che mi ha rapito tutto ciò, questo ladro, questo sleal cavaliere, questo marito infame, ha mescolato il mio primo bacio di vergine al bacio impuro di una cortigiana. Ella chiuse gli occhi con un'espressione indicibile di raccapriccio. Tu non sai, non puoi sapere, quale effetto possano fare tali infamie sull'animo di una patrizia, ma giuro per santa Rosalia che mi vendicherò in tal modo che farò tale ingiuria a quest'uomo, che lo coprirò di tale vergogna, quale non basterà a lavare tutto il sangue delle sue vene e delle mie. Io son giovane ancora, sarò ancora bella quando amerò, ti giuro, vuoi, dì, vuoi! Egli tremava tutto. Ella gli afferrò il capo con gesto risoluto, con occhi ardenti e foschi, e gli stampò sulla bocca un bacio di fuoco. Fine del Capitolo Ottavo Capitolo nono Di Le storie del castello di Trezza Di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Francesca Roma Capitolo nono Donna Violante non chiuse occhio in tutta la notte, stava col gomito sul guanciale, fissando uno sguardo intraducibile, immobile, instancabile, su quel marito che dormiva tranquillo accanto a lei, di cui l'alito avvinazzato le sfiorava il viso, e il quale l'avrebbe stritolata sotto il suo pugno di ferro, Se avesse potuto immaginare quali fantasmi passassero per gli occhi sbarrati di lei. E all'indomani, con le guance accese di febbre e il sorriso convulso, gli disse Non vi pare che sarebbe tempo di cercare un altro paggio, don Garzia? Perché? Corrado non è più un ragazzo, e voi lasciate troppo spessa sola vostra moglie, perché egli possa starle sempre vicino senza dar da ciarlare i vostri nemici. Il barone aggrottò le ciglia, e rispose Amici e nemici mi conoscono abbastanza, perché né la cosa né le ciarle siano possibili. Sugli occhi della donna lampeggiò un sorriso da demone. E poi, aggiunse don Garzia, vi stimo abbastanza, per temere che voi, nobile e fiera, possiate scendere sino ad un paggio. E buttandole galantemente le braccia al collo, accostò le sue labbra a quelle di lei. E la, bianca come una statua, gli rese il bacio con insolita energia. Non di meno, malgrado l'alterigia baronale e la fiducia nella sua possanza, don Garzia era tal vecchio peccatore, da non dormir più tranquillo i suoi sogni, una volta che gli era stata messa nell'orecchio una pulce di quella fatta, e andata a trovar Corrado, Orsù, bel giovane, gli disse, ecco questo borsellino per il viaggio, e queste due righe di ben servito, e vatti a cercar fortuna altrove. Il giovane rimase sbalordito, e non potendo aspettarsi da che parte gli venisse il congedo, temette che qualcosa del terribile segreto fosse trapelata, e tremante non per sé, ma per colei di cui aveva sognato tutta la notte gli occhi lucenti e le brezze convulse. Almeno, mio signore, e balbettò, piacevi dirmi in grazia perché mi scacciate, perché sei già in età di guadagnarti il pane, dove c'è da menar le mani, invece di stare a grattar la chitarra, ed è tempo di pensare a vestir l'arnese, piuttosto che il farsettino di velluto. Orbe, messere, lasciatemi al vostro servizio, in mercè, se in nulla vi dispiacqui, e in quell'ufficio che meglio vi tornerà. Il barone si grattò il naso, come soleva fare tutte le volte che gli veniva voglia di assestare un ceffone. — Via! gli disse, contra il piglio, da non dover tornar due volte sulle cose dette. — Levamiti dai piedi, mascalzone, che dei tuoi servigi non so che farmene, e bada che se la sera di domani ti trova ancora nel castello, non ne uscirai dalla porta. Il povero Paggio aveva perduto la testa, malgrado la gran paura che metteva gli addosso il suo signore, tentò tutti i mezzi per cercare di vedere quella donna che gli avea irradiato di luce la vita in un attimo, e che amava più della vita. Ma la baronessa lo evitava, come avesse voluto fuggire se stessa o le sue memorie. Tutti i progetti e i timori più assurdi si affollarono alla testa delirante del giovane innamorato, e credendo la vita di donna violante minacciata dal barone, decise di far tutto per salvarla. Finalmente, mentre sollevava una tenda sotto la quale ella passava, fiera, calma e impenetrabile, le sussurrò sottovoce. — Se il mio sangue può giovarvi a qualcosa, prendetevelo, madonna! Ella non si volse, non rispose, e passò oltre, e rimase come fulminato. Fine del Capitolo Nono Di Giovanni Verga Capitolo decimo di Le storie del castello di Terezza di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Francesca Roma Capitolo decimo La sera che non doveva più trovar Corrado nel castello si avvicinava rapidamente, ed egli non si rammentava nemmeno della terribile minaccia di quel signore che giammai non minacciava in vano. Era pazzo d'amore, avrebbe pagato con la testa un quarto d'ora di colloquio con la sua signora. Il barone prima di andare a dormire soleva fare tutte le sere la visita del castello. Corrado contava su quel momento per avere un'ultima spiegazione o un'ultimo addio dalla baronessa. Allorché tutto fu buio, si insinuò non visto nel ballatoio, e venne a riuscire dietro la finestra di Donna Violante. Don Garzia era seduto con le spalle alla finestra e stava cenando. La moglie era gli di faccia, col mento sulla mano e gli occhi fissi, impietrati. Ad un tratto fosse presentimento, fosse fluido misterioso, fosse qualche lieve rumore fatto dal giovane con l'appoggiare il viso ai vetri, e la trasalì. Alzò il capo vivamente, e i suoi sguardi si incontrarono con quelli del paggio a guisa di due correnti elettriche. — Cosa avete? domandò il barone. — Nulla, disse la bianca e impassibile come una statua. Il barone si voltò verso la finestra. — Che rumore, ecco testo! Donna Violante chiamò la cameriera, e le ordinò di chiudere bene. Era fredda e rigida come una statua di marmo. — Sarà il vento, soggiunse, o la finestra non è ben chiusa. Corrado ebbe appena il tempo di rannicchiarsi i rasenti al muro. Il barone di tanto in tanto volgeva alla sfuggita sulla moglie uno sguardo singolare, e cosa più singolare era sobrio. — Non bevete un sorso? domandò versandole del vino. Ella non lo so rifiutare. Alzò lentamente il bicchiere, e si udirono i suoi denti urtare due o tre volte contro il vetro. Poi rimase pensierosa, ma con certa ansietà febbrile, gettando sguardi irrequieti qua e là. — Bisogna che vi cerchi un altro opaggio, ora che Corrado è partito, disse il barone, figgendole gli occhi in viso. Donna Violante non rispose, ma levò gli occhi anche lei, e si guardarono. Il barone beve un altro bicchiere di moscato, e si alzò per andare a fare la ronda della sera. Come fu sola, la donna si levò anch'essa, quasi spinta da una molla, e si diede a passeggiare per la camera, agitata e convulsa. Ogni volta che passava dinanzi alla finestra vi gettava un'occhiata scintillante. Ad un tratto vi andò risolutamente, e la perse. Essi si trovarono faccia a faccia, e si guardarono in silenzio. — Ma che fai qui? domandò Donna Violante con accento febbrile. — Son venuto a morire, rispose il paggio con calma terribile. — Ah! esclamò ella con sorriso amaro. Lo sai che t'ho fatto scacciare io? — Voi? — Io. — Perché m'avete fatto scacciare? — Perché non ho potuto far scacciare me stessa. E perché non ho avuto il coraggio di uccidermi dopo essermi vendicata. — Che vi ho fatto? esclamò egli con le lacrime nella voce. — Che m'hai fatto? rispose la donna, fissandolo con occhi stralunati. — Che m'hai fatto? — Ebbene, cosa vuoi ancora? Cosa sei venuto a fare? — Son venuto a dirvi che vi amo. Di segli senza entusiasmo e senza amarezza. — Tu! esclamò la baronessa, celandosi il viso fra le mani. — Perdonatemelo, madonna, aggiunse il paggio sorridendo tristamente, cotesto amore che vi offende, lo sconterò in un modo terribile. — No, disse ella con voce delirante, non voglio che tu muoia, non voglio più amarti, e non voglio rivederti mai più. No, no, vattene! Egli scosse il capo rassegnato. Andarmene! È tardi! Il pontelevatoio è tirato, e il barone mi ha detto che questa sera non avrebbe voluto trovarmi più qui. Bisognava che io arrischiassi qualche cosa per vedervi un'ultima volta, così bella come vi ho sempre dinanzi agli occhi, e che io paghi con qualcosa di prezioso il potervi dire la terribile parola che vi ho detto. — Ebbene! rispose donna violante, pallida come lui, tremante come lui, anche io sconterò il mio fallo. È giusto! In quel momento si udirono i passi del barone, che ritornava accompagnato da qualcuno. — Sì, esclamò convulsivamente la baronessa, ti amo! Sono tua, sia, moriamo! E gli cinse le braccia al collo, e gli attaccò alle labbra le labbra febbrili. Si udì la voce di don Garzia che diceva al Bruno. — Tu vai al ballatoio, e sta a guardia da quella parte. Corrado si strappò da quell'amplesso di morte, e con uno sforzo più grande di quel che ci sarebbe voluto, per precipitarsi dalla finestra di cui gli veniva chiuso lo scampo, e stringendole la mano risolutamente, no, voi no, ricordatevi di me, violante, e non temete per voi, il povero Paggio saprà morire come un gentiluomo. E mentre si udivano già i passi del barone dietro l'uscio, e Bruno che percorreva il ballatoio, si slanciò nell'andito, che era dietro l'alcova, e in fondo al quale spalancavasi il trabocchetto. Don Garzia entrò con passo rapido, non guardò nemmeno la moglie, la quale sembrava un cadavere, gittò un'occhiata alla finestra chiusa, ed entrò nell'andito senza dire una parola. Non si udì più nulla. Poco dopo riapparve d'arvelo, calmo e impenetrabile come al solito. — Tutto è tranquillo, disse. Andiamo a dormire, madonna. Fine del capitolo decimo Capitolo undicesimo di Le storie del castello di Trezza, di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico, letto da Francesca Roma. Capitolo undicesimo La notte s'era fatta tempestosa. Il vento sembrava assumere voci e gemiti umani. Le onde flagellavano la rocca con un rumore come di un tonfo che soffocasse un gemito d'agonia. Il barone dormiva. Ella lo vedeva dormire, immobile, moribonda d'angoscia, sentiva la tempesta dentro di sé, e non osava muoversi per timor di destarlo. Avea gli occhi foschi, le labbra semiaperte, il cuore le si rompeva nel petto, e sembravale che il sangue le si travolgesse nelle vene. Provava bagliori, sfidimenti, impeti, inesplicabili, vertigini che la soffocavano, tentazioni furibonde, grida che le salivano alla gola, fascini che la ghiacciavano, terrori che la spingevano alla follia. Sembrava le di momento in momento che la volta dell'alcova si abbassasse a soffocarla, o che l'onda salisse e traboccasse dalla finestra, o che le imposte fossero scosse con impeto disperato da una mano che si afferrasse a qualcosa, o che il mugito del mare soverchiasse un urlo delirante d'agonia. Il gemito del vento le penetrava sì nelle ossa, con parole arcane che la intendeva, che le dicevano arcane cose, e le facevano dirizzare i capelli sul capo, e teneva sempre gli occhi intenti e affascinati nelle orbite incavate ed oscure di quel marito dormente, il quale sembrava la guardasse attraverso le palpebre chiuse, e leggesse chiaramente tutti i terrori che sconvolgevano la sua ragione. Di tanto in tanto si asciugava il freddo sudore che le bagnava la fronte, e ravvivava macchinalmente i capelli che sentiva formicolarsi sul capo come fossero divenuti cose animate anch'essi. Quando l'uragano taceva, provava un terrore più arcano, e con un movimento macchinale nascondeva il capo sotto le coltri, per non udire qualcosa di terribile. Ad un tratto quel suono che pareva l'aver udito in mezzo agli urli della tempesta, quel gemito d'agonia, visione o realtà, sudì più chiaro e distinto, allora mise uno strido che non aveva più nulla d'umano, e si slanciò fuori del letto. Il barone, svegliato di soprassalto, la scorse come un bianco fantasma, fuggire dalla finestra, si precipitò ad inseguirla, saltò sul ballatoio e non vide più nulla. La tempesta ruggiva come prima. Sul principio fu trovato il fazzoletto che avea asciugato quel sudore d'angoscia sovrumana. Fine del capitolo undicesimo Capitolo dodicesimo di Le storie del castello di Trezza, di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Capitolo dodicesimo La storia aveva divertito tutti, anche quelli che la conoscevano di già, e che la commentavano ai nuovi venuti con la leggenda degli spiriti che avevano abitato il castello. La sera era venuta. L'ora e il racconto aiutavano le vagabonde fantasticherie dell'eccellente digestione. Luciano e la signora Matilde avevano impallidito qualche volta durante quel racconto che conoscevano. — Badate, le sussurrò egli sottovoce, vostro marito vi osserva. Ella si fece rossa, poi impallidì, guardò il mare che imbruniva, e s'avviò la prima. Scesero le scale crollanti, e giunti al basso era quasi buio. La grossa tavola che faceva da ponte levatoio sull'abisso spaventoso, il quale spalancavasi sotto la rocca, a quell'ora era un passaggio pericoloso. I più prudenti si fermarono prima di metterci il piede, e proposero di mandare al villaggio per cercarvi i lumi. — Avete paura? esclamò il signor Giordano con un sorrisetto sardonico, e si misero arditamente sullo strettissimo ponte. Sua moglie lo seguì tranquilla e un po' pallida. Luciano le tenne dietro e le strinse la mano. In quel momento, a centocinquanta metri sul precipizio, accanto a quel marito di cui s'erano svegliati i sospetti, quella stretta di mano, di furto, fra le tenebre, aveva qualcosa di sovrumano. L'altro li vite, forse nell'ombra, lo indovinò, avea calcolato su di ciò, si volse bruscamente, e la chiamò per nome. Si udì un grido, un grido supremo, e la vacillò, afferrandosi a quella mano che l'aveva perduta per aiutarla, e cadde con lui nell'abisso. A Trezza si dice che nelle notti di temporale si odano di nuovo dei gemiti, e si vedano dei fantasmi fra le rovine del castello. Fine del dodicesimo capitolo Letto da Francesca Roma 31 marzo 2021 Fine di Le storie del castello di Trezza Di Giovanni Verga Fine di Le storie del castello di Trezza